Andrea Casalino, tu te lo ricordi molto bene, no? Sì. Eh certo, è qui in studio con noi, lui. Ciao. E lui ha lanciato un'insinuazione molto diretta sul vostro rapporto, comunque, che riguarda proprio te. Leggiamo questo titolo tratto dal messaggero. Ecco, GFVIP, Miriana e Nicola, è amore Andrea Casalino, ci crede solo lui. A lei piaccio io, non è successo nulla perché io l'ho frenata. Ma va. Andrea. Ciao Miri. Ti freni da solo, di solito, nel senso che sei molto rigido. Com'è Casalino che... No, ti spiego. Ciao Miri, ciao Miri. Ciao Andrea. Ciao tesoro, ciao. No, ti spiego. Tesoro, anche no. Va bene. Ti ringrazio. Ciao Miri. Ah, lo sai. Dai, non fare la ferma losa. No, durante un'intervista mi avevano detto che mi ero innamorato di te e allora ho voluto specificare questa... Giustamente. Allora ho voluto specificare questa cosa che in realtà non ero innamorato e non c'è niente di male, ecco, e ho detto che c'era una curiosità tra di noi, c'era un po' di provocazione, c'era un gioco di battute che si è visto un po'... Ma sì, la curiosità era semplicemente che tu hai raccontato che ti piace la cosa tre, così, e poi abbiamo parlato... No, 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 vabbè, ma scusa un secondo, ma a quest'ora...